Ciao a tutti! Quali video troverete nel canale? Nel canale vi sono diversi video che vengono raccolti in diverse cartelle. Vi sono video in cui l'argomento è la storia, vi sono video in cui l'italiano, vi sono video che sono dedicati a piccoli spettatori che trattano di barselette e colmi. Io cerco nel limite del possibile di produrre video il più diversi possibili, quindi fra le cose divertenti del canale e vedere quali video vengono pubblicati in maniera abbastanza assidua. Ciao a tutti, al prossimo video!